Era considerato un vero e proprio ospedale degli animali. Dal 2001, anno in cui è nato, il centro di recupero fauna selvatica Lipu di Casa Calenda si era occupato di più di 2700 animali. Uccelli, tartarughe, tassi, ma anche faine, pipistrelli e ultimamente caprioli sono stati curati in questa struttura e poi rimessi in libertà. In 12 anni Casa Calenda era diventato un punto di riferimento anche per progetti legati al Servizio Civile Nazionale e rivolti a persone svantaggiate. Dal primo aprile di quest'anno però il centro recupero fauna selvatica ha chiuso i battenti. Nato nel 2001 grazie a una convenzione e alla collaborazione con la provincia di Campobasso non riceve più fondi da oltre due anni. Tutte le spese e l'organizzazione erano rimaste a carico dell'associazione che ha operato in questi ultimi mesi con gravissime difficoltà. La Lipu, la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, fa dunque sapere che dal primo aprile le attività di recupero degli animali feriti o in difficoltà in provincia di Campobasso o nell'intero Molise sono cessate. E' molto triste, ha affermato il presidente della Lipu, Fulbio Capria, dover rinunciare a una struttura di questo tipo che grazie a operatori disponibili e preparati forniva soccorso agli animali in difficoltà di tutto il Molise e delle province limitrofe. I vertici della Lipu hanno ringraziato i collaboratori e tutti quelli che hanno sostenuto il centro, oltre ai donatori, i soci, i volontari, mentre hanno criticato le amministrazioni che ottengono benefici dal lavoro di queste associazioni, ma in molti casi non si fanno carico degli oneri di gestione. A Casa Calenda, come in altre zone d'Italia, dove queste strutture hanno chiuso, è accaduto proprio questo.